Pagina dopo pagina si sta cercando di completare tutti i passaggi per la chiusura della cessione societaria del calcio Catania. Un pass in avanti che potrebbe diventare decisivo è la mossa del comune di Mascaluccia che ieri sera ha dato mandato ai propri legali di accelerare verso la positiva soluzione della transazione. I margini per arrivare a chiudere un accordo ci sono il debito e di oltre 2 milioni di euro. Sul fronte squadra invece la testa destra è alla casertana, il Catania vuole archiviare il più in fretta possibile lo stop di Catanzaro e l'impegno con i campani diventa importante nella corsa del quinto posto, occupata a quota 55 insieme alla Juve Stabia che oggi però recupera la gara con il Foggia. La squadra in tanta ribrezza ad allenarsi ieri lo farà ogni mattina fino alla rifinitura di sabato, programmata per il pomeriggio allo stesso orario di inizio su per giù della gara di domenica le 17.30. Baldini in vista della gara di domenica recupera Welbeck mentre è in dubbio ancora Piccolo e Sarau che stanno migliorando ma bisognerà valutarne le condizioni nei prossimi giorni. A Palermo si attende solo la certezza dei playoff che potrebbe arrivare anche prima di scendere in campo contro la Cavese domenica prossima in caso di vittoria del Foggia nel recupero contro il Monopoli. Infatti i rosa-nero sarebbero certi almeno del decimo posto e quindi di disputare la post-season. Intanto però Filippi deve fare i conti con gli infortuni, quello alla coscia subito a Bari si è rivelato più serio del previsto per Almici che ha terminato la sua stagione ma contro la Cavese non sarà disponibile nemmeno Peretti mentre sono da verificare le condizioni di Corrado, Somma, Palazzi, Crivello e anche Saraniti che ha accusato un fastidio muscolare. Fuori anche Lucca che sta lavorando per esserci ai playoff.